Io sto facendo di tutto per trattenerli, sono due giocatori che io li reputo veramente fondamentali per queste squadre, fortissimi e molto difficili da cambiare, quindi non è che vado a dare via a Falletti pensando di poter prendere uno così facilmente della sua bravura, della stessa cosa per la Venanti, però il problema è che ci deve essere la volontà da tutte e due le parti di poter rimanere, io li voglio a tutti i costi, loro per il momento ancora sono qui e finché fanno parte della Ternana per me sono i giocatori più forti che io posso avere in questo momento, però è chiaro che se c'è una forzatura che loro vogliono andare a giocare da un'altra parte, io vi ripeto che non trattengo nessuno, nessuno. Ma stanno avvisando se c'è o se dovesse esserci? Se dovesse esserci. Sono arrivato a questa scelta perché anche e soprattutto grazie al mister che mi ha fatto sentire già subito importante e parte grande di questa società, di questa squadra. comunque sono stati cinque anni a Bari che sono difficili da far passare un giorno, sicuramente, però adesso penso a far bene qui e a cercare di dimostrare tutto il mio valore con la Ternana. Grazie.